Posto Juventus-Empoli, una buona Juventus che ottiene i tre punti fondamentali per la scorsa a Scudetto. Un'ottima prestazione, senza subire tanti patemi. Nel primo tempo un po' troppo sprecona per me, con tante occasioni come Iguain e Super Mario Manzucic. Proprio lui nel secondo tempo la sblocca, anche se verrà assegnata a Autoretti. Il secondo gol lo segna Alexandro, con un'azione davvero centroavanti, che fa anche un bel gol per me. Da segnalare la prestazione di Rugani, sempre ottima. Trentesima vittoria all'Eventus Stadium, un vero e proprio fortino. Adesso ci sarà un tour de force, bisogna stare concentrati, perché ci saranno tanti appuntamenti. Fiducioso, come sempre, in questo modo ci regala tante soddisfazioni. Andiamo a giocare contro il Napoli e già una piccola soddisfazione ce l'abbiamo, con doppietta di Caldara. Insomma, i capolisti siamo noi, contentissimi, felici. E sempre fino alla fine, forza Juventus!